Salve a tutti amici sportivi e bentornati sul canale Uberigno e questa sì che è l'ultima puntata, il giorno 11 praticamente abbiamo trovato tutti i documenti necessari per sventare il diabolico piano di queste due superpotenze e adesso dobbiamo andare a trovare un silo, un qualcosa, localizzati ai siti di lancio segreti, sì, dobbiamo andare a prendere un missile da una delle due parti che distruggerà poi gli altri missili che sono diretti sulla luna e dobbiamo sceglierne una ovviamente, attenzione, la missione finale si svolgerà nella base della fazione con il livello DEFCON più alto, continuo a giocare le missioni normali per ridurre i livelli DEFCON, allora quindi noi possiamo scegliere in mezzo, in giù o a destra, quindi potremmo anche in realtà andare a prendere tutto il resto ma io direi che possiamo anche finirla qui, vederci il finale e andarcene tutti quanti a casa, ok? Quindi, sì, sì, DEFCON 3 Stati Uniti, allora, ricarica tutte le munizioni, poi 4 mila negozioni non ci servono perché non abbiamo niente di nuovo ma noi ci compriamo delle formuline, allora la resistenza abbiamo visto che è ottima, la persuasione ce la pigliamo, a questo punto visto che è l'ultima, visto che è l'ultima, mago del travestimento, mago del travestimento, dai via, crepi la varizia, indietro, pronti? Ultima puntata ragazzi, e rieccoci qui, allora, in questa località va tutto un agente rivale, ma l'agente rivale tanto non ho idea di dove possa essere, non ne ho proprio la propria idea, oh che brutta cosa, che brutta cosa questa ragazzi, vediamo se riesco a prendere quello lì là sopra, allora lui si mette lì nell'angolo e sta fermo per un pochino, poi va lì e sta fermo per un pochino, poi torna qui e sta fermo per un pochino più di tempo, preso, spara, vai fratello, bravo, fateli tutti, ne manca uno Zeo, adesso tocca a te, ragazzi è un'azione più pulita, non si è mai vista in nessun tipo di gioco, guarda, si fa a trovare, si può anche saltare sopra tutte robe qua, eh come si fa a trovare questo agente nemico, cioè non si sa, non l'ho mai trovato da nessuna parte, allora, tu ti avvicini così, tu ti avvicini così, tu fai il giro da Dio, oh la madonna quanti siete, però sono tre livelli qua, ti prego vieni qui a vedere il tuo amico morto, ok, vieni qui, ok, non è successo niente, no non ti preoccupare, non ti preoccupare, vieni a vedere cosa è successo, che ci sono i topolini, ecco qua, disinfestazione, allora, qua dietro non c'è il nemico morto, scusate ma ormai è una questione di principio perché, ma sopra c'è un computer oschi, cos'è? i numeri seriali dei misti balistici intercontinentali, boh, andiamo avanti, no 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 no, tu non mi rompi le balle, anche se ho messo la roba, è sempre meglio stare accorti, più in deluxe fra counter spies, state attenti perché ci sono i counter spy, stima di possibili ubicazioni della base segreta del counter, oh qua, giro un attimino ma, per il fatto che sono solo tre livelli, però, soprattutto sto cercando quest'altra spia, non ho idea di come si faccia a trovare, non ne ho la più pallida idea, non ne ho la più pallida idea, ma certo sì, ma certo che sì, adesso siamo all'ultimo, l'ultimo sarà a un livello un pochino più grande sicuramente, l'efficacia dei gatti nel consegnare carichi nucleari, sono stranito, contromisure in caso di morte a causa di una guerra nucleare, vabbè, eh no ma siete delle merda, queste granate comunque ho notato che non servono a un cazzo, eh, ma che Sarge, ma che Sarge, adesso arrivo io a dartelo il sergente, brutto stronzo, no sono incazzato per questo lancio granate che si è dimostrato essere una vera merda, tu mi hai visto? Mi hai visto? metti fuori la testa, metti fuori questa testa di cazzo, oh cristo, ah alla fine si è morto eh, sti cazzi, qui c'è si può rapicare, no, e devo fare il giro, ti è piaciuto il pastronzo? non c'è niente qui, ci posso far rapicare? si, si sono io ormai ho ammazzato tutti, c'è qualcuno qui, e beh, insomma, cioè svegliati anche te ciccio, girati, bravo, grazie, schiaffi, vieni giù, vieni, vieni a vedere il tuo amico, vieni a vedere il tuo amico, non si è fatto niente, vai tranquillo, sta bene, quante guardie madonna di dio benedetta, allora, da questa parte non c'è un cazzo, no ma va, , va qual è? , va qual è? quHuHUHUHUHUHUHUHUH guardare, guardare, lo spio è Ammazza che bel colpo Ammazza che bel colpo ragazzi Allora qua c'è ancora gente che Vuole scherzare, che vuole giocare Guarda cosa ho trovato un po' Guarda cosa ho trovato un po' Guardalo, guardalo Vieni qua, stronzo 1.500 Guardate un trofeo, yeah, yeah Festeggiamo E' finito? Mi state dicendo che è finito? Non c'è qui niente? Ma va bene, ragazzi Credo che sia finito Ok, premiamo questo pulsante E vediamo un po' che succede, è bello lo sfondo Mi piacciono le lunghe, mi piace lo stile E vediamo un po' che succede Grazie a tutti. Grazie a tutti.